Questa storia racconta come sia stato difficile costruire una ferrovia in uno dei luoghi più impervi al mondo. Disporre oltre un migliaio di chilometri di rotaie in una regione remota, scavare sette tunnel attraverso aspri pendii e innalzare 675 ponti su fiumi e vallate. Il tutto ad un'altitudine in cui persino respirare diventa impossibile. Non è facile lavorare qui. Mal di testa, mancanza di piato, venti gelidi. Per 5 anni 140.000 operai e 2.000 medici hanno cercato di conquistare questo ambiente ostile per completare la Jingai Tibet, la linea ferroviaria più alta ed estrema al mondo. Per 5 anni 140.000 operai e 2.000 medici hanno cercato di acquistare il mondo. Per 5 anni 140.000 operai e 2.000 medici hanno cercato di acquistare il mondo. Per 5 anni 141 ci hanno cercato di acquistare il mondo.